buonasera a tutti in diretta anche stasera aspettiamo un attimo che si collegano tutti sperando insomma che stasera c'è qualcuno che vuole sentirmi nonostante i miei ritardi come sempre abissali speriamo che ci sia qualcuno anche perché non è scontato che ci sia qualcuno attento aspetto un attimo che vi collegate quelli che sono collegati alla diretta mettano mi piace così iniziamo a diciamo far indicizzare la diretta da facebook tanto ciao patrizia ciao un po a tutti non vi faccio il salutone a tutti tutti perché siete tanti per cui niente intanto grazie che ci siete cosa per nulla scontata saluto di nuovo marita d'angelo ci sarà compagnia come rappresentante del dell'ordine degli psicologi di abruzzo parliamo di tematiche un po metafisiche stasera però ciao marco ciao lucia magari forse può essere un po loioso per alcuni però diciamo che servirà per una spiegazione un po più chiara rispetto alla domanda di stasera allora intanto io mi presento per chi non mi conosce sono gimmi fascina ipnologo coach professionista preparatore mentale per sportivi cercatore del campo delle fiamme gemelle esperto di fiore di pac cartomante numerologo lettore dei registi e cascici operatore di campani tibetali di cristallo operatore di matrix energetics operatore di dei bars di access consciousness tanto saluto anche giulia saluto anche luca sono anche un massaggiatore anche se è un pratico più almeno per lavoro al massaggio sono anche un operatore olistico che utilizza varie tecniche dell'equilibrio energetico come ad esempio il reiki ma anche altre tecniche per cui le ho anche canalizzate sono anche parapsicologo e spero di aver detto tutto quello che faccio perché non ve lo ricordo più che veramente troppa roba ma tanto sarà sempre di più perché non mi fermo vi ricordo che potete seguirmi sul mio sito gb fascina punto e tt sul mio blog dove c'è anche mio blog sul mio gruppo di facebook di prosi regressiva e il mistero delle fiamme gemelle sulla mia pagina professionale gb fascina ipnologo sul mio gruppo già l'ho detto se fare un po di confusione e qui sul mio profilo vi ricordo che se volete se vi fa piacere e se volete ringraziarvi diciamo della diretta di stasera come più o meno diciamo spesso faccio delle dirette potete farmi una donazione al mio servizio diciamo splitted che è quello che utilizzo per fare le collette in maniera tale che vi potete diciamo aiutare a realizzare un sogno con una piccola donazione la vostra scelta non è obbligatorio ma semplicemente per aiutarvi a realizzare il mio sogno di andare in inghilterra con modo di andare di dirmi grazie perché così andrò in inghilterra a fare un corso l'art to fillet college per svilupparmi come un parapsicologo sensitivo eccetera che è una cosa che mi piace davvero tanto fare ma tra parentesi anche stasera mi sono ricordato l'elenco delle persone da ringraziare va bene direi che si sono collegati un po tutti e possiamo iniziare allora la domanda di stasera riguarda un qualcosa che mi è stato chiesto direi giustamente e nasce ed è stata posta nella prossima vita sarò tuttologo no non credo anche se qualcuno dice che non ho già vabbè però no non lo sono però faccio davvero tutte queste cose non è una battuta anche se sei imbarazzante sembra una battuta ma non lo è allora dicevo la domanda di stasera nasce come naturale conseguenza di molte delle dirette che ho fatto specie recentemente e delle cose che ho detto ossia ho detto più volte che il percorso delle fiamme gemelle è un tipo di rapporto animico quindi una connessione animica fra due persone non fisica in cui sostanzialmente noi impariamo a conoscere io vorrei dire addirittura a riconoscere noi stessi attraverso l'incontro con la fronte parte animica con l'altra fiamma e quindi attraverso di questa persona impariamo ad amarci per cui è un percorso che sostanzialmente si fa dentro di sé percorso spirituale che si fa dentro di sé perché per cosa più spirituale che c'è ma se è un percorso che si fa dentro di sé per scoprire diciamo come amarci perché c'è una persona fuori di noi che è la nostra fiamma gemella live nel piano fisico cioè perché si incarna la domanda non è non è banale anzi qualcuno me l'ha fatta recentemente avevo promesso che avrei risposto in una domanda alle prossime dirette ed eccola qua la domanda in effetti è giusta per cui vediamo vediamo di dare una risposta allora sostanzialmente come ho detto anche nelle altre dirette il percorso delle fiamme gemelle dovrebbe essere un percorso in cui il nostro focus è incentrato su di noi dentro di noi e non fuori e questo serve per raggiungere un bilanciamento e una centratura in noi stessi per cui per quale motivo il divino ci porta a incontrare un'altra persona ossia la fiamma gemella apparentemente non ha senso specie se vediamo la situazione dal punto di vista della mente della parte nazionale in terza dimensione che l'amore tra fiamma è un amore che nasce anzi forse non potrei dire anche che nasce ma è un amore che è che c'è sempre stato in quinta dimensione ora incontriamo questa persona anche se la fiamma gemella e ho detto più volte che dentro di noi e proviamo qualcosa di descrivere parole per questa persona perché le parole ci muoiono se provassimo a descrivere che cosa sentiamo ecco per capire come rispondere a questa domanda e sciogliere diciamo questo dubbio che giustamente qualcuno mi ha posto partiamo dal presupposto che questa domanda essendo un dubbio mentale quindi che nasce da qua nasce dall'idea ancora presente secondo me in molti di voi che la fiamma gemella sia un individuo un ente separato da voi nasce insomma dalla parte di noi che è legata al concetto di separazione che è diciamo incastrata dalla prospettiva della separazione perché è tutta una questione di prospettiva la prospettiva è l'angolo da cui tu guardi qualcosa, la realtà insomma nasce dall'idea che la fiamma sia separata da noi che dobbiamo trovarla perché molte persone chiedono come faccio a trovare la mia fiamma gemella oppure altri mi chiedono, cioè sostanzialmente le domande sono di due tipi come faccio a trovare la mia fiamma come faccio a riavere la mia fiamma della mia vita qualcun altro a volte dice come faccio a eliminare la mia fiamma che gli dico paga un sicario mafioso spari alla fiamma e risolto no, è ovviamente una battuta ovviamente e sostanzialmente altri invece temono di poterla perdere appunto che la possiamo perdere cioè nasce tutta questa prospettiva c'è qualcosa fuori da noi se fuori da noi non ci vuole niente a perdere no, giusto? intanto leggo un attimo sì, si vanno a ciò della questione adesso infatti ci arriveremo a dare una spiegazione penso interessante intanto non mi pare di vedere altre saluti vabbè, a parte i saluti vari di Lucia Rita, Luiz, Luiz, eccetera andiamo avanti allora la fiamma gemella non è mai stata realmente separata da noi perché? perché tu sei la tua fiamma gemella perché la tua fiamma gemella è la tua anima ora ragazzi scusate se ripeto sempre le stesse cose ma dalle domande che mi fate dalle cose che mi dite dai problemi che avete perché comunque vi contattate parlandomi dei problemi che avete nel rapporto con la vostra fiamma gemella come faccio a gestire questa situazione che nessuno riesce ad aiutarmi e dalle cose che mi presentate mi rendo conto che dire le cose una volta sola non basta bisogna ripeterle e spiegarle più volte magari anche diversamente ogni volta cosa che permette piano piano ad alcuni di voi di far risuonare davvero fino in fondo queste informazioni perché? perché magari ve lo dico una volta non lo capite ve lo dico un'altra volta nemmeno dalla terza volta ve lo spiego in maniera diversa ogni volta ve lo spiego diversamente fino a che a un certo punto un qualcosa tac si aggancia dentro di voi vi inizia a risuonare e a quel punto fate il salto diciamo coscienziale come è capitato anche a me dal resto a un certo punto guardandomi dentro di avere delle risposte si si esatto glenda dicevo la fiamma gemella sei tu non è separata da te quindi non stai realmente mettendoti con un'altra persona quando ti ci metti insieme non la stai facendo tua quando hai iniziato a frequentare non c'è insomma un'altra persona coinvolta coinvolta siccome la fiamma gemella sei tu l'altra persona anche se ha un involucro fisico che ovviamente non sei tu e che ovviamente è separato da te e cioè apparentemente è separato da te diciamo in realtà l'altra persona ha la tua stessa anima in essenza sei sempre e comunque tu questo vuol dire che sei tu che ti manifesti a te stesso che sei davanti a te stesso o a te stessa che appari davanti a te stesso perché lo fai? perché ti serve questa persona? ti serve perché normalmente a meno che non sei il Dalai Lama e se siete il Dalai Lama mettete un mi piace adesso per dire sì sono il Dalai Lama e scrivetelo nella chat sono il Dalai Lama c'è qualcuno che ha messo subito il mi piace quindi vuol dire che è il Dalai Lama non sapevo che fosse qui con noi buonasera Dalai Lama dicevo a meno che non sei a meno che non sei il Dalai Lama e forse nemmeno tu cioè forse nemmeno lui lo è cioè no nel senso che forse nemmeno lui cioè mi sto confondendo a meno che non sei normalmente a meno che non sei il Dalai Lama e forse nemmeno lui che è il Dalai Lama ci è arrivato o non sei un altro maestro incarnato risvegliato dico risvegliato perché potenzialmente siamo tutti maestri ma non tutti sono risvegliati probabilmente avrai delle parti di te che non avrai ancora integrato delle parti di te che magari non ti piacciono e che sopprimi che neghi che non riconosci Carl Gustav Jung che io amo molto chiamava queste parti queste parti di noi l'ombra l'ombra cos'è? è la parte di te proprio perché l'ombra quindi non è luce è invisibile è invisibile a chi? a te stesso è invisibile non perché non c'è ma perché in sostanza non la vuoi vedere dato che la neghi non l'accetti insomma puoi far finta che non ci sia ma c'è purtroppo c'è qualsiasi parte di te che non ha integrato va integrata se vuoi essere integro e bilanciato o bilanciata buonasera dare lama Luis ok? quindi va bilanciata se vuoi essere una persona integra e bilanciata poiché infinitamente più semplice oggettivamente parlato adesso sono tutti dall'elama a posto e allora io sono batman vabbè tanto non sapete che è batman c'è la maschera per cui potrei essere anch'io ve ne sapete allora dicevo poiché infinitamente più semplice per te vedere fuori di te quindi vedere fuori di te cosa? quello che non vedi te che non vuoi vedere e se non lo vedi chiaramente non puoi integrarlo perché non lo riconosci quindi lo vedi più facilmente fuori da te sotto forma delle cose che non ti piacciono nelle altre persone e queste cose sono chiamate in psicologia proiezioni ossia vediamo cose che ci danno fastidio degli altri perché in realtà sono cose che non vogliamo vedere in noi che ci darebbero fastidio di noi se ne riconoscessimo solo che noi ci fermiamo a un passo prima da riconoscerle ora cosa succede la nostra fronteparte animica quindi la fiamma gemella ha un compito molto importante ed è quello di essere che cosa? il nostro specchio inverso ossia la tua fiamma gemella viene sul piano fisico per farti vedere mostrandoti come uno specchio le parti di te in ombra che stai legando le parti della tua anima che stai legando e che non faresti esistere e che non vedresti anche se te ci sono pure se non le vuoi vedere chiaramente se non intervenisse la tua fiamma gemella mostrartele ok ora facciamo una piccola digressione perché giustamente qualcuno mi dice ma se fiamma gemella cosa sono qui qualcuno dirà no no vabbè lo spiego dopo dai poi lo riprendo comunque capite questo meccanismo che in realtà è semplice è semplicissimo ogni volta che fai il lavoro di bilanciamento per ritrovare la tua centratura allinearti in modo più stretto e profondo e sostanzialmente identificandoti con la tua anima la tua anima che fa rimagnetizza quindi riporta dalla tua vita la tua fiamma gemella nella sua il volo profisico e la porta nella tua vita te la fa comparire di fronte non necessariamente cioè che ci sbatti il naso davanti addosso ma magari che ne so sostanzialmente ti apre una finestra di opportunità una finestra di opportunità per te per incontrando la fiamma per poter fare un lavoro cosa vuol dire vuol dire che magari erano mesi che la tua fiamma non la incontravi e ti colpo ti compare la incontri in un angolo di una via o in un'altra città quando ci vai casualmente casualmente oppure ti scrive dopo otto mesi che non ti parlava più e perché te la fa vedere perché ti apre questa finestra di opportunità per te solo ed esclusivamente per te per poter bilanciare un po' di più la tua energia animica condivisa ok poi di nuovo con la tua fiamma fate un periodo in cui c'è una pausa poi la tua anima se continua a bilanciare rimagnetizza di nuovo sul piano fisico la fiamma gemella e tu bilancia ancora un altro po' diciamo quello che è emerso dall'incontro con la tua fiamma e la cosa si ripete ciclicamente per questo meccanismo sostanzialmente che succede giustamente qualcuno si domanderà perché succede questo cerchiamo di dare una spiegazione a questa cosa magari lo facciamo con un grafico vedete i miei disegni di orribili che tanto vi piacciono forse vediamo di fare un disegno allora facciolo qua così ci chiariamo un attimo allora partiamo da un presupposto chiariamo un attimo quello che appena detto perché magari c'è qualcuno che si collega adesso che segue per la prima volta questo video lo vedrà domani su youtube e vorrà capire tutto questo discorso cosa sono le fiamme gemelle le fiamme gemelle sono sostanzialmente un'anima unica divisa in due corpi ora siccome l'energia dell'anima è un'energia spirituale quindi vibra a un livello altissimo un livello energetico molto molto alto stai nel cosa c'entra adesso si c'entra ma non diciamo non direttamente siccome fai sempre degli interventi vedo molto molto allineati con col tema e il contesto di cui stiamo parlando vedo dicevo siccome l'anima ha un'energia altissima quindi vibra alta perché è un'energia spirituale a un certo punto decide di fare un'esperienza nella materia quindi si individualizza quindi alla totalità prende coscienza di sé diventa autocosciente della propria individualità e compie un processo per entrare nella materia entrando nella materia si divide in due polarità maschile e femminile perché si divide in due così iniziamo a spiegare un po' meglio il perché anche se già abbiamo dato la spiegazione perché c'è una persona fisicamente che ha la tua fiamma si divide in due perché il mondo della materia è il mondo della dualità la materia è più densa vibra più lenta dell'anima dell'energia dell'anima anche la materia è un'energia ma è un'energia più condensata ok essendo un'energia più condensata e più lenta questo permette all'anima di potersi incarnare perché perché se dovesse gestire l'energia così com'è normalmente all'origine sarebbe troppa per cui non riuscirebbe a gestire il corpo cioè il corpo si incelerirebbe perché il corpo contiene l'anima no? come sapete allora cosa succede? intanto saluto Patrizia Sette Ducate a cui devo moltissimo anni fa perché mi ha aiutato a prendere consapevolezza ciao Patrizia grazie di essere qui è stata una delle persone che anche senza saperlo mi ha aiutato di più a prendere consapevolezza di me anni fa quando lo incontrate di persona a un evento e dicevo siccome l'energia dell'anima è molto alta brucierebbe sostanzialmente un singolo corpo dove sta allora cosa fa? l'anima si divide in due polarità una maschile e femminile per cui una parte di questa energia non è che cioè non vedete la proprio come una divisione intesa come sottrazione ma semplicemente un ricollocamento dell'energia diciamo nello spazio per capirci immaginatevi che ne so un rubinetto ma forse un rubinetto non è sì rubinetto ma non un rubinetto solo immaginatevi che ne so un acquedotto che deve che deve diciamo convogliare l'acqua l'acqua si divide ugualmente in tutti i rubinetti che ci sono perché perché questo permettono una maggiore agevolazione un maggior scorrimento del liquido perché se no se io metto energia 100.000 in un rubinetto che mi porta che mi può invece di far scendere 10.000 litri d'acqua per far scendere 50 goccia alla volta cioè il rubinetto sarebbe ingestibile sarebbe un tappo di bottiglia un collo di bottiglia come si dice l'informatica cioè sarebbe sostanzialmente inadatto inadeguato per gestire l'energia per cui insomma si divide in due polarità e cosa succede? quando le due polarità si rincontrano nel piano fisico quindi le due fronteparte incarnate in due corpi si rincontrano l'energia in quel momento raggiunge un picco e succede una cosa particolare che vi spiego attraverso lo schemino grafico appunto allora vediamo di fare uno schema abbastanza semplice immaginate una fronteparte come il polo positivo di una calamita anzi perdono anche di una calamita ma in questo caso più di un circuito elettrico e per un circuito elettrico intendo un'immagine della lampadina che non è mia è un'idea di Gorsi Baldi ma esprime molto bene il concetto ora come è fatto il circuito di una lampadina il circuito di una lampadina è fatto più o meno così adesso vi faccio vedere chiaramente perdonate i miei disegni orripilanti ma ho fatto uno sketch molto veloce per cui ok allora vediamo se si capisce dubito però ci proviamo questo è lo schema della lampadina immagino non si vede una minchia un po' qui abbiamo il polo positivo ecco così forse si vede meglio qui abbiamo il polo negativo quindi il polo positivo è una delle due fronteparti il polo negativo è l'altra fronteparte ok a terra abbiamo la presa a terra che indica sostanzialmente la materia ma anche il radicamento poi abbiamo l'energia di una fiamma l'energia di un'altra fiamma ora cosa succede se tu colleghi il polo positivo e il polo positivo Simona ma perché devi andare fuori tema cosa c'entra Malanga adesso cioè se vuoi se ti interessa Malanga segui i video di Malanga perché segui i miei per parlare di Malanga non capisco cioè non parliamo della stessa cosa per parte io lo di Aline non parlo mai per cui proprio perché lui non parla solo di alieni anzi non ne parla quasi più però non è importante dicevo se tu colleghi il polo positivo e il polo negativo della lampadina quindi due circuiti non è che la lampadina si accende la lampadina non si accende assolutamente no c'è qualcosa che la fa accendere che è questa cosa qua che non credo si vedrà queste dirette qua che sono la resistenza il filo no che vedete che collega in una lampadina è filo di lame ma forse facciamo prima prendere una lampadina per farvi un esempio quando si collegano i due poli alla resistenza la resistenza appunto creando una resistenza permette una lampadina di accendersi tac vedete la luce no cosa vuol dire questo in termini di chiamaggimella perché se no non si capisce succede che quando l'anima è nel mondo spirituale ha un'energia altissima ok scende dalla materia si divide quando si ritrovano le due forti parti l'energia di nuovo venta ok il punto è che siccome l'energia delle fiamme unite è un'energia appunto altissima il corpo fisico e la venta umana che nasce dal corpo fisico come derivato non è abbastanza forte non è abbastanza capace di reggere questa energia è troppa ok per cui cosa succede siccome l'energia è troppa essendoci un picco di energia diciamo si bruciano i circuiti ok per cui sostanzialmente le fiamme si allontano perché perché si è bruciato il circuito quindi vuol dire che devono imparare a gestire un livello di energia molto maggiore quando sono insieme di quello che avevano quando si sono rincontrati cioè cosa vuol dire sostanzialmente se l'anima unita ha energia centomila ma i corpi elementi delle fiamme reggono energia cento il circuito si brucia ovviamente per cui le fiamme devono imparare a gestire una quantità di energia via via progressivamente maggiore ad ogni incontro fisico fino a che non arrivano a gestire quel livello di energia una volta gestito il livello di energia la lampadina non si brucia ma si accende come ho detto prima che cosa serve per far collegare il polo positivo o negativo quindi per collegare i fronteparti serve la resistenza ma chiaramente le persone non sono delle lampadine ma il modo in cui si comportano nel caso delle fiamme è un po' come il circuito elettrico della lampadina cioè anche tra di loro c'è la resistenza qual è la resistenza fra due fiamme gemelle? la resistenza delle fiamme gemelle nasce dal fatto che avendo dentro di noi appunto le due polarità quindi una polarità che spinge una polarità che scappa una polarità che tira una che molla la polarità animica che è dentro di noi e che è basata sulla paura ma anche quella dentro la fiamma è basata sulla paura quando la fiamma si manifesta davanti a noi la polarità dentro di noi c'è una sorta di scossone cioè si desta come un leone che dorme cioè immaginate avere un leone addormentato si avvicina alla preda leone apri gli occhi inizia a guardarsi un attimo intorno e dice quasi quasi gli salto addosso ok per via della presenza della fiamma siccome la polarità dentro di noi che spinge verso la fiamma si comporta come un tossicomane che fa quando la vede si prende una dose ma vederla vuol dire vedere un suo messaggio vedere una sua chiamata cioè basta anche solo quello quindi si nutre un pochino ora quello che ho spiegato perché se questa parte viene nutrita troppo sì certo si accende cioè entra l'energia a fiotti entra sempre di più la lampadina si accende perché si accende perché la resistenza fa unire due poli ma a causa della troppa intensità della luce la lampadina scoppia se invece quella polarità prende solo una certa quantità della sua dose preferita della sua droga preferita che è la fiamma ma senza esagerare a quel punto diventa più gestibile ok ora il fatto che la nostra polarità prenda una parte della dose sotto forma della fiamma è un bene nel senso che è una cosa perfetta perché è il motivo per cui questa polarità c'è dentro di noi perché in questo momento in questo punto del percorso è proprio grazie alla polarità della paura che è dentro di noi che possiamo bilanciare sempre di più il campo energetico condiviso con la fiamma in quanto l'infronto con la fiamma cosa fa a livello pratico ci tira fuori delle cose da dentro permettendoci di andare un po' più in là nel processo di bilanciamento cosicché ci stiamo avvicinando un po' di più alla nostra fiamma gemella per certi versi è un vero e proprio processo di auto guarigione della ferita della paura e della mancanza di amore per noi stessi perché come ho detto un percorso di fiamma gemella è un percorso di conoscenza profonda di noi stessi che vuol dire conoscenza di noi a livello di anima e di amore per noi stessi diciamo che questo è insomma il ruolo dell'involucro fisico della fiamma gemella nella nostra vita che non è quello di averci una semplice relazione romantica perché tutti quelli che premono sulla relazione brava sulla migliore fisica sull'avere una relazione su stare proprio e fare non hanno capito proprio niente secondo me niente di niente grazie venida per il commento intanto che dice che mi piace quello che dico vabbè Simona se ne è andata dopo aver detto la cosa fuori tema della serata ulteriore ogni tanto capita qualche matto qua in diretta alcuni alcuni di quelli che commentano sarebbero dei casi veramente sarebbero dei casi da studiare quasi dei casi antropologici direi vabbè non leggo neanche il commento che ha scritto Simona perché non ha senso allora tornando alla diretta quindi ricordate ricorda che la tua fiamma gemella sei tu perché tu sei la tua anima la tua fiamma gemella è la tua anima netto della tua fiamma anche se credevate di esserlo siete corpi fisici non siete corpi fisici siete anima e anima è contenuta in quell'altro corpo fisico come è contenuta nel tuo corpo come è contenuta nel corpo fisico la tua polarità di anima il corpo fisico dell'altra fiamma ti viene manifestato dalla tua anima sul piano fisico per permettere alla tua energia della paura che pressa verso la fiamma ti nutrirsi quel tanto che basta quindi non di più quel tanto che basta per permetterti di bilanciare poco alla volta un po' di più perché se vi ricordate e spero vi ricordate la tua energia della paura si nutre ed è ossessionata dall'imvolucro fisico e dalla personalità della tua fiamma ed associa ad essa erroneamente secondo me la felicità perché la esternalizza fuori da sé e questo è ciò che la nutre come ogni tossico perché si comporta come un tossico come vi spieghiamo pensa che la fiamma gemella sia necessaria per lei cioè pensa che senza la sua fiamma gemella non può vivere non può stare bene eccetera quindi per potermi bilanciare un po' di più dobbiamo lasciare che si nutra un pochino di più per vedere poi cosa ne viene fuori da questo da questo incontro perché ti mostra le parti di te che devi guarire ti mostra le parti di te che sono ancora dipendenti dalla paura per cui quando la tua fiamma gemella ti compare davanti di persona o sotto forma di messaggi quando si scrive di colpo dopo mesi di silenzio e tu ci interagisci la tua polarità della paura si nutre e ti si mostra ancora di più cioè si fa vedere ancora di più come se uscisse fuori dalla grotta dalla tara per farsi vedere un po' come il mostro di Locke che esce ogni tanto e ti mostra ancora di più delle parti di te da bilanciare e bilanciando sostanzialmente le vai a guarire chiaramente questo cosa succede cosa significa cosa implica implica che praticamente escono fuori di te le parti peggiori di te i tuoi gollum avete presente il signore di Arelli il mio tesoro escono fuori di te tra virgolette i vostri ciattoli qualcuno li chiama demoni o se volete chiamarlo così cioè le parti di te che non hanno l'abito vestito da sera sostanzialmente ma invece hanno l'abito sudicio sono sporche sono brutte magari ti hanno vergogli e chiaramente facendo così nutrendole chiaramente come tutte le cose che nutri si mostra un po' di più cresce un po' di più si accresce quindi diventa più grosso cioè se tu nutri una cosa diventa più grande si vede di più giusto? se si vede di più si manifesta di più quindi cosa vuol dire? questo ti spiega sostanzialmente perché con la tua fiamma gemella spesso hai delle reazioni estreme assurdamente estreme che con altre persone normalmente non avresti addirittura hai delle reazioni che non hai mai visto in te uscire fuori e fai delle cose proprio da pazzo ti fai stalking alla fiamma cioè fai delle cose che se ci pensi a mente fredda dici ma come cacchio è che sto facendo sta cosa io l'ho mai fatta ma quando mai? ma sono io questo? eh sì sei tu solo che fino ad allora non lo sapevi perché è venuta fuori un'altra parte di te ok? per cui questo è il ruolo che la tua fiamma gemella ha nella tua vita e in questo momento della tua vita chiaramente in questo momento è il tuo percorso ed ecco perché abbiamo bisogno di lei sotto forma di un rivolucro fisico non per attaccarci a lei eh per avere attaccamento per avere bisogno per avere dipendenza poi per bilanciare tanto leggiamo un attimo se ci sono commenti ok Chiara dice io non riesco a aprire mandaggio ok e quando ti batti in Jimmy fascina capisci perfettamente perché con quella persona non ha mai avuto un rapporto romantico nel senso il canonico nel termine ti tira fuori tutto tranne che le romanticherie ti giuro non ho capito questa cosa che hai detto ah ok sì adesso ho capito esatto sì quello che per l'ha detto guarda Simona io non ti studio faccio prima a cancellarti direttamente per cui non è che ci metto molto all'inconfronto mi fa un baffo vera miseria Chiara mamma mia cioè inizia a fare tipo la voce demoniaca e la risata satanica tipo vabbè non vorrei essere della tua fiamma in questo momento sinceramente non mi fate ridere su chiaramente se fossimo così bravi da guardarci dentro perché avremmo davvero fatto risuonare dentro di noi che è la separazione o l'illusione come ripeto fino allo svilimento ci basterebbe semplicemente fermarci vedere e sentire la fiamma gemella dentro di noi e dirci ok ho ancora una parte di me matura ok ho ancora una parte di me che è dipendente e bisognosa degli altri dell'approvazione degli altri dell'amore degli altri che è dipendente e cerca di attaccarsi ad essi ho ancora una parte di me che è infantile ho ancora una parte di me che è gelosa ho ancora una parte di me che è diciamo insicura eccetera e devo guarirla quindi devo lavorare su di me per guarirla se veramente avessimo questa capacità le cose sarebbero diverse per capire un po' meglio quello che sto dicendo adesso vi consiglio sempre come ho consigliato più volte in passato di vedere e studiare Mauro Scardovelli perché? perché a me piace moltissimo perché aiuta molto in tal senso a capire tutto questo discorso quando parla delle subpersonalità eccetera eccetera vedetelo magari avendo fatto un miliardo di video però tipo me no ne ha fatti più di me però merita Mauro merita cavolo merita tanto è un essere umano che ha fatto un lavoro veramente pazzesco quindi se fossimo in grado di fare questo la nostra febbre gemella non dovrebbe proprio comparire nella nostra vita ma siccome non siamo così bravi e la nostra anima è misericognosa allora abbiamo bisogno di vedere la nostra ombra riflessa negli altri e ovviamente nessuno è così bravo a rifletterci fino in fondo a noi stessi quanto noi stessi dato che la nostra fiamma gemella è la nostra stessa identica frequenza per cui più di qualsiasi altra persona ci riflette cose che noi siamo o che neghiamo ora chiaramente qualcuno mi dirà ma come io ho letto che adesso i sette specchi esseri o qualsiasi altra cosa di questo tipo mica solo la fiamma è il nostro specchio è vero davvero questa cosa anche gli altri che non sono la fiamma gemella nostra ci fanno potenzialmente da specchio è vero ma solo la nostra fiamma gemella ci farà da specchio inverso totalmente per via del fatto che è il nostro stesso codice vibrazionale è lo stesso perché è la stessa anima quindi è la cosa più vicina più risonante più identica a noi perché siamo noi per cui non ci riflette alcune cose di noi ci riflette totalmente solo che è appunto il nostro specchio inverso cioè ci fa vedere le parti di noi che neghiamo e ce le tira fuori tutte 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 cioè il peggio del peggio molto spesso se non l'abbiamo chiaramente ancora risolto ci abbiamo lavorato per cui dicevo questo è il ruolo della fiamma è il ruolo che la fiamma ha e per questo motivo abbiamo bisogno che la nostra fiamma gemella sia qui nel mezzo del nostro percorso perché come diceva il nostro specchio inverso ti mostra le parti di te che neghi a te stesse che altrimenti non vedresti ed ecco perché ho detto più di una volta che la nostra fiamma gemella è il nostro maestro più grande più grande maestro che puoi incontrare nella tua vita perché il maestro non è un guru di fuori che ti dice che adesso attraverso lo schermo tipo un certo mi fascina delle cose eccetera o altre no 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 nessun maestro è il maestro più grande di quello che puoi trovare dentro di te di dentro di te che mostra a te stesso che ti mostra a te stesso per poterti integrare che tu mostri te stesso a te stesso per poterti integrare a te stessa se sei donna chiaramente ok e quindi se era tiziana va bene simona visto che dici che siamo dei cretini per me personalmente puoi anche interrompere la visione di questi video dato che ti ho invitato più volte visto che non risuona quello che ti dico e non risuona quello che dicono le persone che seguono queste cose con quello che dici tu ma siccome non ti ho mai puntato la testa per seguirci e non capisco perché continuo a seguirmi se non ti risuona visto che ti ho invitato più volte ma sei arrivato addirittura a insultare cosa che non avevi mai fatto prima per me sinceramente stai per essere bandita immediatamente da da questo profilo e questa diretta perché va bene che insulti me lo posso anche reggere ma non va assolutamente bene non ok che insulti le persone che mi seguono devi imparare le basi del rispetto anche perché adesso ho appena aperto la tua bacheca e vedo che ti metti ti stai lamentando anche di altre persone però ricordati che finché ti lamenti negli altri anche se a volte lo faccio anch'io sostanzialmente vuol dire che non guardi quello dentro che hai tu che è la stessa cosa per cui comunque adesso ti ballo e arrivederci ciao e fuori da qua e va bene si è liberato una posizione fra i miei contatti per cui chi vuole chiedermi l'amicizia che non era ancora mio amico può approfittare che si è appena volatilizzata arrivederci mai più allora riprendiamo invece il discorso scusate l'interruzione però purtroppo ci sono persone che non sanno neanche le basi della civiltà e dell'educazione ma neanche le basi Carla inizia te lo spiego tra poco però un attimino andiamo avanti della spiegazione vabbè poi c'è qualcuno che fa domande tipo Patrizia che chiede una volta che hai bilanciato che succede cioè si può anche non vedere mai più l'involucro sì Patrizia l'ho spiegato una volta che hai bilanciato puoi scegliere di stare con la tua fiamma o scegliere di non starci ma a quel punto sarà una scelta perché non ci sarà più il bisogno la dipendenza la paura a diciamo come si dice a legarti alla fiamma sostanzialmente non avrai più una posizione da vittima o da dipendente sarai autonoma centrata completa indipendente per quel punto sarà una scelta vera perché se hai bisogno dell'altra persona non è una scelta appunto bisogno ma se hai un bisogno non sei libera e quindi la scelta è condizionata non è incondizionata cioè la scelta esiste la scelta è tale quindi la scelta è scelta solo se hai incondizionato un po' come l'amore l'amore è una scelta se sei obbligato non è una scelta e non è amore perché se l'amore è condizionato non è amore ma se è condizionato non è scelta cioè la vera scelta è condizionata secondo me un'altra domanda qual era poi riprendiamo ah sì in casa che diceva io sono super tranquilla un altro no ti ripeto adesso tu sei super tranquilla un altro ti mostra la non tranquillità devi integrare quella poi col tempo si arriverà dall'urlamento allora il bilanciamento non è una cosa immediata Carla quando tu raggiungi un estremo di tranquillità tra virgolette l'altro guarda caso si pone all'estremo opposto diventa super agitato guarda un po' quindi vuol dire che c'è ancora separazione il bilanciamento si ha quando sostanzialmente non c'è nessuna delle due cose cioè si sta nel mezzo e richiede tempo per cui adesso è super agitato tu sei super tranquilla tra un po' tu sarai un pochino diciamo meno tranquilla e lui sarà un po' meno agitato a un certo punto poi arriverete a un punto di incontro ma ci vuole tempo sarà a piccoli passi non è immediato perché perché se no l'energia va di nuovo a picco cosa che spieghiamo prima ok tornando al discorso di prima quindi riprendiamo al discorso di prima forse verso la propria comunque guarda Carla ma adesso forse ti rispondo con quello che ti dico adesso cioè forse verso la propria fiamma come se fosse un altro individuo staccato da noi che in qualche modo è coinvolto dalla nostra vita come potrebbe essere coinvolto un familiare un amico non è la cosa migliore da fare no la fiamma gemella non è un'altra persona sei tu ed è molto importante anzi è la singola cosa più importante che potrebbe fare in questo percorso delle fiamme gemelle è quella di iniziare a far risuonare completamente questa verità con te far risuonare dentro di te la verità che tu non sei mai stato separato e non sarai mai separato dalla tua fiamma gemella che non siete due individui separati e divisi ma siete la stessa identica cosa quando guardi alle situazioni con la tua fiamma dicendo ma io sono tranquillissimo e l'ho agitato ma io ma ci siamo allontanati o ci siamo separati o quella lì è una persona completamente diversa da me perché io sono tranquillo e l'ho agitato oppure una persona che sta facendo questo mi sta dicendo quell'altro che prova queste emozioni magari per un'altra persona che non sono io è separato da me tutte queste cose qua è separato da me da quello che sono quello che faccio eccetera queste sono cose tipicamente che vi dite beh quando dici queste cose solitamente ti sbagli perché tu e la tua fiamma siete la stessa cosa siete uno sostanzialmente siete un'unica cosa quindi non potete realmente dividervi sfasciarvi non puoi tagliare il cordone con la fiamma o legame con lei non puoi distaccartene o lasciarla andare non puoi trasferirti o spostarti altrove interessarti alto andare avanti perché siete un'essenza composta della più potente energia che nasce direttamente dalla fonte divina cioè l'anima quindi non puoi tagliare il legame o romperlo o separarti dalla tua fiamma è un'illusione credere di poterlo fare perché come puoi separarti da te dalla tua anima è un'illusione creata dal mondo fisico della paura perché questo è il mondo della dualità perché vi è il mondo della dualità e come vai la tua legge della paura vede la tua fiamma gemella e te come due esseri distinti e separati perché la tua energia che è dipendente dalla paura che si alimenta di essa si focalizza esclusivamente sull'involucro fisico della fiamma gemella e attraverso i cinque sensi fisici sembra e appare se noi osserviamo dalla lente dalla percezione dei cinque sensi fisici sembra e appari separato dalla tua fiamma cioè come se voi foste due esseri completamente separati ma loro siete non siete i vostri corpi noi siamo la nostra anima tu e il tuo corpo diciamo tu e il corpo della tua fiamma gemella siete parte di un campo energetico condiviso che non condividi con nessun altro dell'intero universo a parte la tua fiamma per cui anche se nel tanti fisico e con i sensi fisici della terza dimensione può sembrare che siete separati dietro alle quinte dietro alle quinte del teatro sappiamo che quello che succede è che noi siamo in realtà anime e la nostra anime è una cosa sola è unica per entrambe le fiamme gemelle non due anime ma un'anima unica ok sul teatro diciamo sul palco vedi due persone che due attori che parlano ma dietro il teatro c'è un unico tra virgolette burattinaio con i fili che fa muovere entrambi un po' come i burattini quando in certi momenti ti dovesse venire ancora la sensazione il pensiero che tu la tua fiamma gemella siete separati o non siete sempre insieme o che siete diversi individui a quel punto saprai che la tua energia è la paura che sta cercando in quel momento di prendere il controllo di te perché si sta nutrendo ok perché è la tua polarità che spinge sulla fiamma gemella la pressa perché ha paura chiaramente e non devi per nessuna ragione al mondo credere a quello che dice anzi devi dirle letteralmente che non è vero che non è vero quello che ti dice e tu sai che è così cioè tu sai che non è così cioè che non è come ti dice e che non è vero e che è un'illusione generata dal mondo della terza dimensione un po' come accade nel film Matrix no? avete presente? è che l'idea della separazione la prospettiva della separazione è la causa di tutto il dolore e tutta la sofferenza che tu provi nel tuo percorso e la soluzione di questo dolore la risoluzione di questo dolore la soluzione a questa separazione a questo senso di separazione è che non c'è alcuna separazione fra te e la tua fiamma non c'è nessuna fase di separazione non ci sono fasi obbligatorie da attraversare o dei caselli o delle tappe forzate nel percorso di fiamme punto è così il percorso delle fiamme gemelle non è a tappe è un processo sempre presente e sempre attivo in cui devi sempre essere presente a te stesso non stando nel passato cioè nel rimpianto spesso o in un futuro che potrebbe non verificarsi mai buono o cattivo che sia potrebbe non verificarsi mai che ne sai perché ogni volta che stai nel dolore hai ansia o che ti senti sotto pressione o qualsiasi tipo di stress legato alla tua fiamme gemelle è dovuto al fatto che ti sei reinserito o reinserita nell'energia della paura nel tunnel percettivo della mente perché lo chiamo tunnel perché un tunnel è di realtà ti fa vedere la realtà solo in modo rigido solo in modo inquadrato solo inquadrato dalla paura quindi stai vedendo il tutto attraverso delle lenti non appropriate degli occhiali sbagliati perché il punto è che la separazione non esiste non può accadere perché siete una cosa sola sei tu ci sei solo tu per cui ad esempio quando una persona mi dice mettiamo carla io sono tranquillissima lui lui è come si dice sbaglio è passato un orbe perché ho visto qualcosa volare in quella direzione sbaglio l'avete visto anche voi durato un istante dicevo mi sono perso il filo allora ah sì quando qualcuno mettiamo carla dice no io sono tranquillissimo l'ho agitato che cosa devo integrare cioè già il fatto che ti stai chiedendo che cosa devo integrare non serve perché stai attivando il mentale cioè cerchi un motivo una spiegazione la spiegazione te l'ho già data in realtà ma non serve cioè non c'è o meglio è una cosa naturale cioè se tu stai calmissima è normale che lui sia agitato lo specchio inverso per cui devi aspettare piano piano bilanciare facendo caso alle reazioni che ti fa provocare cioè che ti suscita che reazioni che reazioni ti suscita il fatto che ti è agitato che emozioni provi che cosa provi ecco a quel punto quelle sensazioni che magari ti danno fastidio sono quelle che devi integrare devi sbucciare la cipolla ok per cui ti mostra delle cose che poi tu devi integrare così ti permette di andare avanti nel tuo percorso nel tuo percorso di bilanciamento ok per cui ci sei solo tu e tu sei bellissimo sei meraviglioso sei miracolosa sei composta dall'unità più potente dell'universo e quella dell'anima quindi sei perfetta quindi quando smetti di guardare l'altro come una separazione capisci che ci sei solo tu ok ci sei solo tu ed è la tua anima che è perfetta che orchestra tutto quello che accade se glielo permetti ma chiaramente la tua mente non vuole crederci e permettere alla tua anima di farlo la tua mente chiaramente perché lo fa perché vede le cose solo attraverso i sensi e l'esperienza materiale e perché vede questo perché ha una prospettiva la tua mente limitata perché non vivrà per sempre perché vive nel mondo dei limiti che è quello della materia vede la tua anima è al di fuori del mondo dei limiti la tua anima è eterna quindi è una prospettiva molto più ampia perché la prospettiva pare infinito ok per cui la mente che è limitata non potrà mai capire anima non potrà mai capire la prospettiva di anima e allora la mente non gli permette cerca di mettere i bastoni fra le ruote d'anima perché non glielo vuole permettere ma perché non la capisce non può capirla ma è normale è come un'unghia che vuole capire tutto il corpo come fa? non ce la fa per cui sostanzialmente quando tu inizi a far risuonare davvero questa prospettiva dell'anima inizia a identificarti con l'anima cosa succede? iniziano sì ma la mente io del bimbo per averlo sentito perché probabilmente viene da fuori perché qui sotto comunque ci sono famiglie e qua fuori c'è un po' di casino c'è una delle vie principali di Pescara perché sono proprio al centro per cui normali sono bambini altri che fanno casino però voglio un attimo andare a discorrere indietro per vedere i commenti ma pensate io non è invece la prima volta che faccio caso che passa un orb dicevo ritornando al discorso di prima quindi quando inizi a integrare la prospettiva dell'anima inizi a farla tua inizi a sentire veramente che la separazione è l'illusione cosa succede? succede un po' il processo opposto di quello che ti ho detto prima cioè da una grande fonte di energia che arriva che per scendere sulla terra inizia a dividersi in due per cui l'energia viene distribuita attraverso i rubinetti dei due corpi perché se no il corpo non riuscirebbe a gestirla tutta perché è troppa man mano che inizi a togliere il velo della separazione quindi inizi a sentire sempre di meno che siete separati attraverso questa danza piano piano inizi a vedere che l'illusione che è la tua fiamma è separata da te si frammenta cioè immaginate che questa parte inizia piano piano a scomparire in tanti piccoli pezzettini che iniziano a volatilizzarsi e integrarsi con l'altra parte per cui cosa succede da un picco di energia che si divide l'energia fa il percorso opposto e inizia a riunirsi quindi ciò che era separato tornerà a essere originariamente unito in modo se vi spiego per cui intererai sempre di più una prospettiva perché tanto alla fine è tutto un gioco di prospettive di punti di vista per cui il problema che noi abbiamo con la nostra fiamma è semplicemente un problema di prospettiva errata quando tu entri della prospettiva dell'anima che è basata sulla completezza sull'integrità sull'abbondanza e non sulla carenza privazione limite ed è così potente la prospettiva dell'anima che permette alla nostra appunto anima di magnetizzare riportare rimagnetizzare la nostra fiamma gemella sul piano fisico proprio davanti a noi e per sapere come fare quindi per sapere come annullare far collassare questa illusione della dualità che giustamente qualcuno vi dirà ma come faccio a fare tutto questo dopo che vi ho fatto la spiegazione e lì appunto bisogna avere gli strumenti per uscire dalla mentale perché finché stai nel mentale finché stai nella prospettiva limitata dalla mente non riesce a fare tutto questo non riesce a sentire l'anima poi devi imparare a scoprire come uscire dalle paure come uscire dalla gabbia delle paure perché le paure creano proprio delle gabbie delle prigioni molto spesso sono delle prigioni invisibili con delle pavie invisibili dentro la nostra testa che non riusciamo a vedere poi devi sapere come gestire e bilanciare energia per non creare troppa energia per non avere un cortocircuito che ti brucia la lampadina che finora se non sei riuscito a stare con la tua fiamma perché la lampadina sei bruciato troppe volte invece devi imparare come mantenere l'accesa senza bruciarla ma è un'arte è una danza ci vuole tempo ci vuole qualcuno che magari ti aiuta ti segue ti aiuta a parlare sui giusti pilari a far scorrere bene l'energia per cui per imparare come fare quello che ti consiglio è di sostanzialmente scrivermi un email scrivermi un email al mio indirizzo di posta elettronica che è mi fascina gmail.com e candidarti al mio percorso rimagnetizza la tua fiamma gemella della tua vita che è sostanzialmente il percorso che ho creato per avere tutti questi strumenti che ti servono per far collassare l'illusione della dualità della separazione che attraverso il mio percorso impari come entrare in questa prospettiva dell'anima che è la prospettiva utile che è la prospettiva giusta per te più quella che ti serve per riunirti con la tua fiamma per sapere come fare per sapere come far collassare questa illusione io ti fornisco tutti gli strumenti che ti servono veramente ho detto tutto nel percorso tutto quello che ti serve ed è tutto lì perché è basato su verità semplici universali è un percorso completo che ti dà tutti gli strumenti che ti servono e solo gli strumenti che ti servono nulla di più nulla di meno solo quello che ti serve affinché tu possa piano piano progressivamente facendo degli esercizi entrare in quella prospettiva giusta e farla tua farla risolare davvero dentro di te affinché tu possa così smettere di soffrire smettere di rimanere bloccato in un'illusione della separazione in un'illusione della dualità per cui se vuoi sapere come fare scrivi un'e-mail all'indirizzo di post che ho appena messo che è gbfascina chiocciola gmail.com ti faccio lo spelling jdjuventus idibola mdmilano mdmilano idibola fascina nome è fascina di legno chiocciola gmail.com quindi gbfascina tutto attaccato tutto minuscolo per chi mi segue su youtube chiocciola gmail.com se la diretta di stasera ti è piaciuta e vuoi invitarmi ringraziarmi con una donazione per il servizio spitted che è quello che utilizzo per farmi appunto fare le donazioni puoi farmi una donazione all'indirizzo che ti ho appena messo io non ci ho fatto caso vabbè poi lo vedrò nella registrazione spero spero che si veda quindi potete farmi una donazione mi aiutate in qualche modo a realizzare il mio sogno di andare in Inghilterra a studiare l'Arthur Philly College che è un posto bellissimo pazzesco un edificio pazzesco un corso costa un bel po' che costa circa 2000 euro tra viaggi dormire e mangiare però in questo modo mi aiutate a realizzare questo sogno che ho questa cosa che desidero fare da tanto tempo e sareste gentilissime una qualsiasi cifra che non volete non è obbligatorio non è per forza ma è un modo di ringraziarmi se ti va per quelli che vedranno il video su YouTube il link di Splitted per la donazione c'è nella descrizione c'è scritto per donazione clicca qui se non vi funziona quel servizio potete contattarmi in privato e trovere un'altra soluzione però intanto provateci con quello va bene ci sono domande ho risposto a tutte le domande finora è tutto chiaro carlo è tutto chiaro per gli altri che mi hanno fatto domande tipo Patrizia è tutto chiaro ci sono delle domande legate a quello che ho detto stasera vi ho chiarito perché come ho detto c'è una fiamma che si manifesta sul piano fisico sul piano fisico e a che cosa serve che ruolo ha è chiaro il ruolo che ha quindi non è il rapporto romantico ma per permettervi di bilanciarmi inizialmente poi dopo quando avrete bilanciato avrete raggiunto una posizione di completezza e avrete integrato dentro di voi tutte le paure fino a farle trasformare in amore attraverso una trasformazione alchemica a quel punto quando starete nell'amore starete nell'adesso e sentirete la fiamma gemella dentro di voi saprete davvero che la separazione è l'illusione a quel punto potreste anche prendere in considerazione l'idea di avere una relazione fisica con la vostra fiamma quando sarà magnetizzata sul piano fisico se la volete ma non è obbligatorio ma non dovete averla per forza a quel punto potrà esserci come non esserci starete bene comunque sarete comunque integri ok molto bene allora io vi ricordo per chi volesse seguirmi che vi trovate sul mio sito gimmifascina.it sul mio gruppo di prosi regressive il mistero delle fiamme gemelle qui su facebook iscrivetevi invece se vedete questo video su youtube e siete su facebook e siete su youtube ma non vi seguite ancora iscrivetevi al gruppo di facebook se siete su facebook seguitemi sulla mia pagina gimmifascina il prologo la mia pagina professionale di facebook iscrivetevi mettete mi piace in maniera tale che cresce questa pagina mi aiutate a farla crescere anzi tutti quelli che sono stasera nella diretta mettono mi piace la mia pagina così cresce un po' condividete i miei video così fate conoscere il mio lavoro quindi condivideteli 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 perché è un modo di ringraziarmi e di aiutarmi fate conoscere il mio lavoro a più persone possibili e se conoscete qualcuno che può aver bisogno dei miei servizi parlatevi di me ok io vi ricordo che sono gimmifascina il prologo ricercatore del settore delle fiamme gemelle esperto di fiori di bac coach professionista preparatore mentale per sportivi lettore dei registi acascici non amo il termine maestro perché è un termine che viene abusato sono parapsicologo sensitivo cartomanter numerologo operatore di matix energetics operatore di access consciousness non ricordo se ho detto operatore delle campagne di metalli di cristallo se l'ho già detto pardon perché inizio ad essere un po' stanco a quest'ora per cui magari ripeto le cose due volte sono anche un operatore olista che utilizzo le varie tecniche di riequilibrio e purificazione energetica e in futuro diventerò tante altre cose perché non mi fermo mai dall'imparare sono ieri e oggi ho seguito un corso oggi e un corso ieri per aggiornarmi in fine settimana ne ho seguito un altro in Svizzera per aggiornarmi come vedete non mi fermo mai e l'anno non era ancora finito qui c'è ancora altro pianifico di fare io vi mando un grande abbraccio ci vediamo alla prossima diretta continuate a fare domande soprattutto su youtube nei commenti oppure fatele dalla mia pagina io mi faccio il prologo così posso pensare a delle nuove dirette perché inizio a avere un po' di difficoltà a trovare argomenti di cui parlare perché ho parlato ormai di quasi tutto il possibile sulle fiamme per cui tra un po' vera che trovano più argomenti perché veramente vi ho detto tutto quello che potevo dirvi almeno a livello pubblico sulla base di quello che siete di una virgolette pronti a sentire che ci sono alcuni argomenti che come avete capito non ne parlo per esempio la sessualità fra le fiamme con la vita proprio vedo che la gente non è pronta a sentirlo io scapperei da casa tua vabbè dai mochiamo un esorcista Luis Luis vabbè io vi ringrazio vi auguro una buonissima notte sono Jimmy Fascina e vi auguro una buona notte ciao a Jimmy buona serata e alla prossima diretta grazie